Un corso, quello fornito dal Conservatore Rossini di Pesaro ad alcuni suoi studenti, che sa tanto di premio e di grande opportunità regalata. Un'opportunità gigante come gigante è la docente esterna della Masterclass. Laura Marzadori, 33 anni e primo violino del Teatro alla Scala di Milano, che per quattro giorni, dal 28 settembre al 1 ottobre, segue gli 11 effettivi di violino che hanno scelto di partecipare. È sempre bellissimo poter incontrare giovani musicisti in un lavoro che si compone di più aspetti, perché facciamo lezioni di violino con repertorio solistico, però affronteremo in ultimo giorno anche passi importanti d'orchestra, così per poter introdurre i ragazzi anche nel mondo dell'orchestra e del repertorio per grandi gruppi. Il livello degli studenti è buono? Assolutamente, sono tutti molto bravi, sono tutti bravissimi ragazzi e soprattutto ho notato proprio un grande desiderio di imparare. Penso ci sia stata una bella intesa tra noi, quindi la cosa più importante. Una grande docente per questo corso. Ci puoi raccontare anche un po' la tua storia, nel senso che sei giovane, sei comunque il primo violino della Scala di Milano, quindi di strada ne hai fatta nella tua brevetà comunque? Sì, adesso ho 33 anni, ho iniziato a studiare da piccolissima, tra l'altro la mia insegnante era di Pesaro, Fiorenza Rosi, la mia prima insegnante, quindi c'è un legame con questa città molto forte e poi ho vinto il concorso per primo violino di spalla dell'orchestra e del teatro alla Scala otto anni fa, quindi è già un percorso che sta diventando lungo, importante e ovviamente è un'esperienza che ti cambia la vita, però non mi ha impedito di continuare a fare anche tante attività collaterali come quella dell'insegnamento, ma anche quella di camerista, insomma il solista, che porto avanti parallelamente. Ci sarà in futuro l'opportunità per i pesaresi di ascoltarti qui a Pesaro? Lo spero, ancora non c'è una data, diciamo, stabilita, però sicuramente penso che tornerò anche, insomma, per qualche concerto. Per uno studente di qualsiasi livello è sicuramente una grande opportunità poter studiare e approfondire il repertorio solistico appunto legato al violino. Avete imparato qualcosa di nuovo? Sicuramente sì. Assolutamente sì, assolutamente. consigli da tutti i punti di vista, tecnico, espressivo, quindi assolutamente sì.